Buon pomeriggio, buon viaggio da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. Sulla 1, tra Sassomarconi e la variante di Valico, traffico rallentato per materiali dispersi in direzione Firenze. Personale su strada ancora in A1 è incisa, reggello, lavori in entrambe le direzioni. Sulla 1 continuano i lavori per la pavimentazione e stanotte, domani giovedì, orario 22.6, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Sud in uscita per chi proviene da Bologna. Ricordo in alternativa di uscire a Firenze in Pruneta. Veniamo a Firenze, nuova fase dei cantieri della tramvia Fortezza San Marco, con la modifica della viabilità e la chiusura di via Battisti e via degli Arazzieri. Dall'11 giugno il servizio dei bus subirà variazioni, saranno coinvolte 11 linee che dovranno cambiare percorsi con soppressione e istituzione di fermate. Maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!